ciao monica abbiamo iniziato per carlotta ciao 5 4 3 2 1 scendiamo nella storia di carlotta dimmi come la vedi mi fa questo passaggio strano la vedo lei con una cariola poi mi passa attraverso una chiesa non so come si ritrova nella sua cucina e scarica il contenuto della cariola sul pavimento della cucina e si tratta proprio di asfalto e vedo che questo asfalto inizia a sporcare ad incrostare il pavimento ti dà l'autorizzazione vedo che è già intenta a voler ripulire il pavimento non sa come fare si gira verso di noi e dice facciamoli insieme per favore va bene vibrazione di carlotta 2 miliardi e mezzo consapevolezza 158 anima 41 vite 2027 e cervello 8 nome del progetto di carlotta brava bis nome della ps di carlotta nome della ps di carlotta rosetta della pie primaldello cinema vediamo chi da solo si presenta senza invito i fratelli e le no aspetta un attimo i due fratelli maschi sì la sorella piccola femmina sì l'altra vedo che è come se si strappasse i capelli all'ingresso all'ingresso esterno del cinema cioè quasi boba vorrebbe entrare e poi ha questa tipo crisi di nervi poi entra no rimane lì strapparsi i capelli ok la madre sì dove si siede la madre si siede nella gabbia sua personale tipo quella dei processi non so sì in un certo senso sì con un gabbiotto l'ex marito ah se la porta lei sì 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 l'ex marito sì 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 c'è l'ex marito sì anche se in punta in punta proprio estrema un angolino in fondo in fondo sì e e il compagno viene con un ragno appeso al collo non so va bene questi senza invito sono venuti da soli adesso due begli inviti in busta carta spessa lettere d'oro la figlia grande e la figlia piccola la figlia piccola è dentro un uovo quindi entra rotolando perché non ha la facoltà di camminare è imprigionata dentro questa specie di uovo e quindi oltre a non poter camminare non ha neanche del tutto la possibilità di sentire perché io so che c'è dentro lei ma neanche la vedo perché non è un uovo trasparente la figlia grande arriva con un fagottino in braccio però la vedo tanto stanca con le occhiaie cosa c'è nel fagottino bebe di che colore è l'uovo della piccola è proprio come se fosse un classico uovo che noi siamo abituati a vedere sai bianco marroncino color carne diciamo ok nell'invito c'era rsbp riservessi il buple ripondessi il buple hanno risposto tutte e due esatto non solo sai che è come se anche se non invitate si sono raggruppate tutte davanti al cinema soprattutto io vedo donne però donne sia anoressiche che ebuliniche che vorrebbero entrare prego invitiamo anche l'amica delle sedute e anche gli altri che facevano le sedute prima l'amica però vediamo chi tra l'oressiche ebuliniche arriva arrivano anche delle persone che noi conosciamo che hanno avuto questa problematica nel passato è come se volessero un po fare un ripasso e da una parte e dall'altra volessero dare il loro sostegno a tutte queste donne io stamattina ho visto una donna incinta anoressica invitala si viene vedendo che la figlia di carlotta ha portato il proprio bebè no? sapendo che appunto anche lei ha avuto questi problemi poi in più c'è il fagottino viene quanti sono quindi le donne anche gli uomini mulimiche e anoressiche a corsa 8.000 grande cinema oggi e e e e quelli della seduta spiritica è come se alcune di questi della seduta allora l'amica è come se mi fosse venuta sotto forma di come se come se tiene un ventaglio pavone in mano perché per lei era un motivo di vanto questo di fare le sedute spiritiche e di vedere che eh portavano eh dei risultati con successo no? e e infatti adesso è come se fosse molto dispiaciuta no? del fatto di non di non avere più questo tipo di risultato perché è come se eh eh queste persone che la fanno si sentissero potenti particolari speciali importanti certo mhm bene prima delle entità eteriche di Carlotta ci sono disincarnati attaccati a Carlotta è come se fosse una specie di lamento di di ehm 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 se quando uno un po' si sta un po' lamentando un po' frignottando un po' ehm gemendo ecco sento questo che è quello del papà ah ah beh chiamiamolo papà lite papà non era ancora stato interrato e scoppia una furibonda lite relativa alla sorella che si strappa i capelli fuori dal cinema sì è come se lei volesse affermare il papà è sempre solo stato tutto mio mhm non dovevate esserci voi qui allora ha preso un po' ehm la scena lei completamente quasi dissacrandola anche questa scena ehm ma perché lei sentiva di dover in qualche modo mettere la sua impronta unica speciale e incontrastata anche in quel momento lì perché il papà era solo mio perché il papà era solo mio chiamiamo il padre di Carlotta come una mummia uno zombie viene proprio con le braccia distese no? quasi tipo un sonnambulo ha dormito parecchio in vita cioè ha dormito parecchio nel senso di inconsapevolezza intendo mh io voglio un sorriso da Carlotta come l'erce della famiglia Adams chiamò tu niente non mi ride Carlotta non mi ride mai Carlotta oh ecco mi ha riso anche se è un momento clou bisogna ridere sempre bene come offriamo una vic al papà? sono tanti modi una nuova benda bravo sai che è proprio indovinato il punto è come se lui volesse che lo si aiutasse a togliersi le bende ma cambiamole una nuova benda una benda vic proprio come se fosse una pellicola di DNA con tante informazioni sopra e man mano che toglie la vecchia e mette la nuova la nuova che si applica sul suo corpo scompare ma questa è una cosa straordinaria questa creazione che hai fatto tu è proprio giusta per lui glielo ditte anche a mia figlia che si può fare? la grande quella cui presente ah Carlotta si come se lui avesse recepito in maniera istantanea una sorta di rigenerazione e nel tempo in cui ha ricevuto la rigenerazione diciamo cellulare le è arrivata l'illuminazione e vuole trasmetterla a Carlotta che davvero questo tipo di rigenerazione è possibile è efficace chi è il padre di Carlotta? è il padre di Carlotta? vuole sapere se è il suo vero padre? no 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 certo che sì però è veramente il padre? o è mille altri personaggi di mille altre vite? in questo momento lui ha iniziato ad intravedere questo gioco mi fa vedere tipo sai Cluedo con questi vari personaggi allora mi fa vedere che lui è stato questo uomo qui padre e lo scrive sotto padre di Carlotta e poi cita gli altri tre figli quattro figli tre figli sì tre figli più Carlotta cita poi mi fa vedere tutta una serie di altri personaggi che lui è stato ed è contemporaneamente e sono tutti diversi quindi ci sono dei bambini delle donne ed è sempre lui ne conta quattro perché sono due sorelle due fratelli e Carlotta quindi sono cinque ha lasciato fuori la primogenita allora ne conta quattro perché Carlotta mi scrive che di lei aveva paura è come se fosse la padrona è come se l'avesse percepita non come figlia ma come padrona della quale sì aveva un po' di timore perché lei teneva le eredini del gioco della famiglia faceva il bello e il cattivo tempo sì non lei è vero mi ha detto quattro figli ma è il padre sì lei non la considera una figlia non la vuole menzionare ma va e poi cos'è stato il padre almeno per Carlotta o per le figlie di Carlotta e allora mi fa vedere che è stato un medico che ha fatto un'operazione su Carlotta tipo al piede piede sinistro un intervento delicato per quei tempi ed è stato un intervento di successo sì tipo che forse Carlotta un po' si era invaghita a causa di questo successo dell'intervento del medico sì ma lui proprio l'aveva ignorata perché per lei lui era solo una paziente e ne vede tante e non aveva nessuna rilevanza però lei non se ne faceva una ragione come se lei diceva ma è com'è possibile che io ho un legame così forte e lui non gli arriva il salvatore una sorta di transfert sì esatto ci sono delle vite tra il padre di Carlotta e le figlie di Carlotta quindi le nipoti e il nonno e qui al contrario mi da un uomo molto autoritario che tipo è rimasto vedovo e le tratta come delle serve tipo come se fossero sue una sua proprietà va bene ci sono altri disincarnati che sono venuti di fronte a questo portale aureo aperto e tante ragazze morte per vari disturbi alimentari e complicanze legate ad anoressia e bulimia proprio tante 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 sia uomini che donne anche bambini vedo che soffrono di questi disturbi vabbè tutti dentro ma il padre prima lascia un messaggio il cibo ha a che fare con la vita dobbiamo tutti far pace con la vita per amare il cibo per amare il cibo mi fa vedere lui andava tipo a messa o prendeva perché mi fa vedere quasi come se ricordasse quando prendeva l'ostia sai no? il cibo per eccellenza perché mi fa vedere come c'è tutto un un groviglio anche di sensi di colpa in parte trascinati dalla religione che hanno permeato la famiglia intera anche proprio dei travisamenti e e carlotta nuisce va bene ma questo è vic tutto questo è il passato tutto questo è sono dettagli di questa vita tu puoi sciogliere come se dicesse tu puoi sciogliere ogni cosa lo dice riferito a carlotta non c'è nulla che tu non possa fare decidi e lo scioglierai e alla moglie? che dici? è stato un matrimonio o non matrimonio? anche se l'abbiamo scelto insieme che è successo? ma è sbattuto forte forte la la finestra come se ne va? come lo vedi adesso con le bende? mummia? ho visto che aveva i piedi gonfi proprio grossi come se fossero zavorrati sicuramente non è stata una vita facile per lui molto bloccato non ha fatto ciò che desiderava fare nel suo profondo ora invece però nella parte superiore il viso è scoperto e anche fino alla vita è scoperto e vedo che ha messo le braccia lungo il busto non ha più le braccia distese sospese per aria lo salutiamo dai ti dò una carezza eh fatti dare una carezza dice a carlotta gliela dà in maniera un po' rudimentale un po' goffa di uno che non deve salare non le ha mai date va bene lo chiudiamo il portale aureo totale di quelli che sono entrati e vedo che però saluta anche i soprattutto i il maschio quello un po' grosso come se volesse soffermarsi di più a salutarlo figlio maschio e poi va si entità eteriche vedo diversi enormi ragni robotici come mi fa vedere come una sorta di invasione di questi ragni robotici in città non so perché me li da così questa interferenza e poi sempre all'interno della città mi fa vedere un'anaconda quindi direi secondo universo è un vorrei dire basta sì perché poi ci sono per esempio tutti degli edl e degli elohim ma che sono appartenuti al passato ed è vero che lei se li è tolti e che riguardavano la carlotta che era intresa ancora di credenze religiose entità mentali guarda a dispetto della sua vibrazione e tutto quanto io gliene vedo una sola però è pesante perché me la da fra il 5 e il 6 e si chiama colpa e mi fa vedere proprio come su tutti i livelli lei abbia questo macigno perché lei è come se vivesse la colpa sia su se stessa ma sia anche attribuisce colpe agli altri tutto ruota intorno alla colpa colpa che è come se si portasse anche dietro una matrice religiosa di peccato di colpa sai è un concetto proprio radicato nel cattolicesimo mi fa vedere lei che si sente in colpa per le scelte che ha fatto per le azioni che ha compiuto lei che si sente in colpa nei confronti delle figlie in parte si sente in colpa anche nei confronti dei genitori poi sente di attribuire tante colpe di tutta la sua situazione ai genitori è tutto che ruota intorno alla colpa ognuno ha delle colpe lei ha delle colpe impianti allora io gliene vedo c'è tipo uno mentale proprio fatto come da dei fili elettrici che trasmettono scariche impulsi e un qualcosa di molto simile fatto da fili elettrici al cuore e basta non c'è tanto no senti ma nel portale auro sono andati eventuali disincarnati attaccati a lei no perché i lamenti erano il padre i lamenti erano il padre sì ma c'è qualcosa di molto piccolo tipo dei neonati ma non so se sono suoi perché lei è come se avesse un'affinità con il mondo dei morti cioè lei ha un'affinità strana è come se fosse una sorta di canale intermedio tra il nostro mondo e il mondo dei morti e chi rimane incastrato un po' è come se lei avesse un'affinità sì un'affinità un particolare un particolare legame anche con tipo i bambini mai nati i bambini abortiti ha avuto un aborto però non è solo il suo forse alcune delle ragazze che lei indirettamente ha conosciuto forse nel percorso ecco di tentativi di guarigione no delle sue figlie ha avuto anche modo di avere a che fare con altre ragazze no metti all'interno delle comunità delle riunioni così no alcune di queste che avevano abortito ed è come se questi loro aborti fossero non so in cerca di una consolazione che Carlotta dà va bene andiamo alle sedute spiritiche dimmi se c'è qualcosa di interessante lì se qualche residuo allora lei è andata via per tempo mi fa vedere nel senso che si sentiva osservata lei ha proprio la capacità di stare verso l'oltretomba ha questa facoltà che potrebbe essere proprio la classica medium che è in grado di evocare i disincarnati sai? e infatti secondo me quando lei lo faceva con questa amica lei non lo sapeva minimamente ma era soprattutto lei a trainare questa cosa quando era comparso questo soldato che gli ha raccontato un po' a loro due le vicende no? di cosa era successo come era rimasto incastrato sotto le macerie e così cioè è come se lei non lo sapeva perché ovviamente era giovanissima no? ma proprio questa capacità di dialogare con la morte e infatti lei ha scelto molto una vita in cui ci sono tanti elementi di morte perché l'esperienza dell'anoressia è proprio come se la persona camminasse in bilico tra la vita e la morte tra un corpo e un corpo che quasi non c'è più che si sta consumando che poi è il tramite per fare la vita qui quindi morte tutti si spaventano ma è la morte semplicemente alla fine di quel gioco che si può fare qui nella parte fisica non voglio banalizzare non voglio dare meno più importanza una cosa all'altra è solo un'analisi no? la vita qui si può fare solo se si ha un corpo infatti i disincarnati non fanno una vita restano ingabbiati in una realtà multidimensionale non sanno bene dove andare e non stanno facendo niente né vita né né post vita sono lì bloccati l'importanza del portale aureo è ancora secondo me molto sottovalutata ok quindi nulla e all'amica quella che hai visto da poco c'è qualche disincarnato appiccicato? no più che altro mi fa vedere come quando le due ragazze erano vergini avessero non so come dirti più appetibilità anche no? nei confronti dell'entità per esempio no? l'entità erano più interessate a loro adesso che ovviamente è passato tanto tempo cioè loro hanno filiato e tutto quanto no? e non sono più così interessanti perché? una questione di energia sì certo di energia pura e molto concentrata no? nelle ragazze che ancora non hanno avuto rapporti va bene cosa fa la figlia piccola nel cinema davanti a questa prima analisi? lei è venuta diciamo sotto forma di scheletro in questo momento no? cioè io so che è lei perché prima era venuta dentro questo uovo allora è come se lei fosse ancora lì dentro questo uovo ok? e adesso quello che mi può far vedere è uno scheletro è come se facesse una specie di dialogo con Carlotta riguardo all'invisibile noi non ci sentiamo amati non ci sentiamo visti allora provochiamo e ci rendiamo quasi invisibili così c'è un motivo per cui voi non ci vedete e poi ancora dice tu mi hai dato la vita io ti sfido e ti provoco nel portare questa vita su un filo sospeso nel vuoto mettendola in ogni momento in pericolo va bene adesso occhio di bue grande luce sulla gabbia nel cinema sulla mamma la mamma sta aspettando che qualcuno le dia la chiave per uscire dalla gabbia gliela do io ma tra l'altro gliela vedo già in mano no? ma mica lei se ne accorge che ce l'ha in mano ce l'ha in mano grande occhio di bue bello forte sulla sua chiave in mano è come se non sapesse neanche quasi usarla no? è come una bambina molto piccola che non sa neanche infilare la chiave schermo del cinema nello schermo creiamo sul palco del cinema un secondo palco cioè un secondo schermo di piccolo se vuoi ma uguale dove ci sono alcuni frammenti della vita della mamma di Carlotta ascolta bene Carlotta non scrivere tutti i momenti in cui la mamma di Carlotta poteva ricevere aspetta c'è tipo mi viene tante preghiere come se la sua vita fosse scandita molto no da questo ci fossero degli obblighi c'è un'educazione molto rigida le preghiere rigore educazione non ti rivolgere così ai tuoi genitori se no ti arrivano due schiaffoni capito non ti permettere di fare questo e l'altro fermiamo il cursore della vita della mamma di Carlotta in tutti i momenti in cui una mamma la sua mamma e il suo papà dovevano darle un abbraccio un bacio una carezza un bravo un va bene così un non importa hai rotto il bicchiere non è un problema lì dove non è avvenuto e dove doveva avvenire questo per carlotta la mamma di Carlotta per la mamma di Carlotta e questo è nello schermo piccolo nello schermo grande vediamo invece tutti i momenti in cui Carlotta non ha ricevuto l'abbraccio la carezza il bacio della mamma del papà il bravo il non importa la risata il che bel disegno che hai fatto e pensa che la mamma di Carlotta è come se mi facesse vedere che lei già molto si è ammorbidita rispetto a quello che lei ha dovuto subire cioè che già è come se avesse fatto degli sforzi quanti sono questi punti del film di Carlotta cioè ci sono stati molti momenti in cui specialmente il padre avrebbe quasi voluto prenderla in braccio ce ne sono tanti e non l'ha fatto no quanti più di un centinaio quanti di preciso diciamo 103 103 103 tagli nella pellicola di Carlotta lei li fa toglie il pezzo dove non viene abbracciata mette il pezzo dove il padre l'abbraccia lei lo può fare e ma non è avvenuto è avvenuto perché lei lo crea adesso e infatti è avvenuto in un'altra linea temporale che uniamo a questa sì sì e infatti il padre partiamo da quando lei era più piccola perché la vedo proprio che la prende in braccio lei rovescia tipo un bicchiere a terra quindi insomma no qualcosa che nella linea temporale conosciuta da Carlotta sarebbe stato un motivo di rimprovero in quest'altra linea temporale il padre la solleva su in alto e la fa sorridere le fa un po' tipo il solletico le fa il vola vola una cosa del genere poi la rimette giù e insieme puliscono per terra questo ad esempio dei 103 momenti sì vediamo i momenti relativi alla madre sì la madre viene tipo come se fosse con il rosario tra le mani così che doveva fare queste preghiere e dovevano essere anche più volte al giorno magari anche vicino ai pasti la sera e quanti momenti c'è qua vedo ancora più severità e più freddezza in questa famiglia non so perché mi dice 2000 2000 2000 tagli li fa la regina Carlotta questa povera cellulosa oggi sarà un po' martoriata si toglie il pezzo e ci mette quello che vuole la madre che butta rosario dalla finestra e disegna insieme a lei e fa una torta insieme a lei fa i biscotti e le fa il bagnetto e ride e le propone di cantare una canzone delle sigle dei cartoni animati e crea una ghirlanda quasi ispirandosi sai no al rosaio però la trasformano e quindi fa una collana di fiori e gliela mettere al con la Carlotta sì sì ma sono immagini a Carlotta anche se non aveva il rosario e magari non era neanche così religiosa era una forma mente sono immagini simboliche queste era in realtà religiosa mi sembrano per ricordare più o meno ma vabbè però aveva il senso del dovere era una affettiva c'era un qualche motivo dietro bene boh non so mi viene quasi come se fosse stata una forma di collegio la sua vita la vita della madre di Carlotta sì bene che cosa vuole fare Carlotta adesso tutto questo suggerimento abbiamo fatto i tagli nella vita della madre e tagli nella sua vita ci sono altri tagli nella sua vita che aspettano di essere praticati no non mi sembra no no quelle con le figlie con le figlie è come se volesse creare una specie di cucitura le dice le dice devo fare un taglio prima di cucire o posso cucire su questo taglio che già c'è quello che vuole è come se si rendesse conto che alcune azioni sono solo possibili energeticamente e che non può aspettare a lei l'esito di del rapporto ciò che lei può fare è risanare se stessa ma l'epoca può cambiare la sua linea temporale energeticamente lei però non può cambiare la scelta delle figlie capisci no 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 ma può cambiare la sua di scelta quindi quella volta in cui sono state brave a scuola può dire loro brave abbraccio bacio pacca sulla spalla e sui capelli quello che non c'è stato è come se lei mi facesse vedere che più che altro ha bisogno di colorare è come se avesse dimenticato di mettere la gioia e lo scherzo e la leggerezza la risata l'ironia è stato tutto preso troppo seriamente cioè quei quaderni con il disegno outline senza le parti colorate da colorare coloralo tu perché se aspettasse alle figlie adesso avrebbero solo in mano il pastello di cera nero tutto al più grigio perché è come se ogni piccolo problema che accade per loro fosse poi una tragedia diventasse una voragine che le fa gocita e anche quelli che sono gli eventi belli che però comunque anche l'evento bello contiene in sé sempre magari una difficoltà la difficoltà poi arrivasse a soverchiare l'evento bello e quindi trascina giù risucchia completamente nel vuoto e nel nero le figlie e quindi è come se tornando indietro cambiando le linee temporali lei volesse insegnare a loro la capacità di ridere di prendere con più leggerezza le situazioni di sapere che si può sdrammatizzare di sapere che non esistono i drammi nella vita e che noi possiamo colorare esistono i colori non è tutto tristezza e grigio certo ma infatti Carlotta può farlo può colorarli questi momenti sì sì sta facendo questo nel passato anche con le figlie è come se le stesse facendo insieme a loro gli fa vedere che le foto non sono più solo in bianco e nero gli fa vedere che possono rifare dei disegni colorati raggianti non degli scarabocchi ma quasi dei capolavori è come se lo facessero insieme è come se accartocciassero quel disegno che era solamente nero uno scarabocchio e ne facessero uno molto bello molto luminoso con tanti colori e lo fanno a sei mani in quanti punti della linea temporale di Carlotta? mi dice in 58 punti e lo fa in tutti colorlo tu? sì ok lo fanno anche le figlie nella loro linea temporale perché già ci sono dei riflessi sì e ci sono proprio dei punti di contatto delle linee temporali tra la figlia e loro in cui riescono ad adottare questa tecnica di colorazione a volte è solo acquerello per cui rimane molto molto leggero questo colore altre volte vedo che vengono utilizzati i pennarelli altre volte il pastello a cera è come non so come spiegarti è come una specie di intreccio a volte vedo da sola Carlotta che lo fa altre volte vedo che lo fa con una figlia altre volte vedo che lo fa con due figlie è tutto molto unito e mescolato non c'è separazione netta no? tra le linee sei il cromosoma X quando hai parlato di linee temporali che si intersecano mi è venuta questa immagine perché? ma X è quello della donna? XX è donna mi sembra no? XX è un uomo sì è proprio come un voler ricostruire tutta questa solidarietà femminile chiamiamola amore e sostegno fra le donne che non c'è stato perché lei ha sentito molto Carlotta la freddezza della madre ha sentito molto e sente tuttora la rabbia della propria sorella il distacco dalle figlie e in parte lei stessa no? a volte le ha rifiutate quindi proprio tutto questo collegamento del femminile molto 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 bloccato non comunicante non accrescitivo è per quello che ripropone la X come se fosse una X da ridisegnare in un'ottica diversa in un'ottica di amore di unione causa esoterica del passato di tristezza cioè qua mi da molto il concetto di espiazione della colpa un po' in diversi componenti della famiglia e nel momento in cui si è sopraffatti da questo quindi si ritiene di avere una qualche tipo di colpa è tutto all'insegna della tristezza è tutto sottotono è tutto molto anche piatto avvengono poche cose e ciò che avviene è subito un dramma della rabbia vorrebbe tanto buttare all'aria le cose così come sono andate e ricrearle perché non accetta che ci sia questa sorta di incombente incantesimo su tutta la sua famiglia sacrifici privazioni ma ripagate è come se veramente lei giustamente dice ma io mia madre non la vedono con il rosario in mano però vedi qual è la sottile astuzia della religione che anche chi non è religioso ha di fatto assunto questo senso di colpa di peccato originale pur non essendo un praticante ma di fatto imposta la propria vita così si sente colpevole di ogni cosa e bisogna comportarsi in una determinata maniera ci sono delle regole da rispettare c'è un'organizzazione quindi tu non puoi scappare da quello schema lì devi fare tutte queste cose non c'è tempo per amare non c'è tempo per divertirsi cosa pensa il paese anche sì noi viviamo tutto questo in maniera laica ma ci viene da lì sì 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 non sei sposata non si fa così vai in chiesa ma te ne frega niente perché tutti vanno in chiesa eccetera eccetera ma non è questo caso di Carlotta causa esoterica del suo di aver scelto cioè di aver avuto nella sua vita questo marito il primo quindi non parliamo del compagno il padre delle ragazze è un modo per espiare la colpa del corpo cioè lei ha fatto molta esperienza sul corpo lei stessa in passato ha avuto qualche problema alimentare e poi ha scelto due figlie che hanno entrambe problemi alimentari quindi il corpo messo in primo piano e qui ha espiato nel corpo perché di fatto c'era una fisicità praticamente assente veniva proprio mortificata la sessualità è sempre un discorso intorno al corpo alla mortificazione alla colpa causa esoterica del suo nuovo compagno di questo incontro se è fiamma diciamolo se è anima gemella diciamolo diciamo mi viene tra il secondo e il terzo livello anima gemella in effetti sì ci sono sicuramente dei punti di contatto cioè sicuramente c'è un affetto così però non riesco a vedere che c'è una vera intimità di cuore una profonda connessione si può formare ecco sì sì in effetti sì adesso stavo guardando in effetti può crescere la loro affinità di anima sì vabbè causa esoterica della stanchezza della non serenità del voler sparire vedi del voler sparire proprio una cosa classica dell'anoressia no? che tu dimagrisci dimagrisci fino a diventare praticamente invisibile trasparente nel voler sparire è proprio un po' un filo conduttore che è presente nella famiglia ok che facciamo? Carlotta è convinta di avere ancora la possibilità di dare una svolta alla sua vita lei sa di poterlo fare è così è come se mentre va al cluster si togliesse di dosso un cappotto armatura molto pesante che peraltro adesso è estate non avrebbe neanche senso indossare un cappotto ma è proprio un cappotto quasi di cemento e quindi adesso che si è tolta questo cappotto può andare più rapidamente verso il cluster ha operato tutti quei tagli nella sua linea temporale sia quelli con sua madre e suo padre sia quelli con le sue figlie sì 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 certo tutti? ne ha lasciato qualcuno dietro? no li ha operati tutti sì sì energeticamente quindi la vita di Carlotta non sostiene più tutto il resto la passata vita di Carlotta non sostiene più una figlia anoressica esatto è come se lei avesse potuto creare queste suture dei tagli saltando nelle varie linee temporali in modo da poter riorganizzare gli eventi accaduti e quindi adesso se io guardo vedo questi tagli suturati no? bellissimi colorati che sembra quasi sei quando con la macchina da cucire hai la possibilità di avere a disposizione diversi tipi di punti no? se vai nelle macchine da cucire molto moderne veramente hai un'infinità di punti e lei li ha utilizzati tutti e quindi è diventato quasi un capolavoro un patchwork bellissimo di punti di sutura con fili colorati diversi esatto alcuni anche molto brillanti belli quindi prima di iniziare la sessione c'erano infinite linee temporali per Carlotta non le elenchiamo tutte Carlotta se vogliamo circoscriverle al rapporto di Carlotta con le sue due figlie c'era quella in cui una figlia va in Australia c'è quella in cui una figlia va sulla luna siccome no c'è una figlia bla 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 adesso lei ha operato energeticamente questi tagli colorati nel suo passato esatto e come dire fa lo sgambetto a tutte le linee temporali che non possono essere sostenute dalla mancanza di abbracci per esempio verso le figlie perché quei pezzi sono stati tagliati e sostituiti o semplicemente tagliati quindi da un punto di vista di Carlotta energetico questa è una linea temporale che le piace si energeticamente mi dice tutta un'altra storia questa benissimo quindi per esempio potrebbe alla fine della sessione chiedo chiamare la figlia piccola in casa la invito per un tè un tè verde ok e poi e le da la mano è importante questo contatto è possibile che la figlia si ritragga un pochettino all'inizio però nel momento in cui lei riesce a creare questo contatto fra le loro mani lei riesce a passarle questa nuova informazione di questa nuova vita di questa altra storia che ha creato qui oggi una nuova vita di scompariamo che è bello? assolutamente no una nuova vita di che tipo? balliamo che è bello balliamo in questa vita musica sì a volte può anche essere un balletto che ricorda la morte non è un problema ma balliamo non stiamo fermi balliamo e viviamo che canzone senti? vabbè adesso mi è molto appena Daniele tutta un'altra storia non trovo più la penna ok cluster molto lugubre come cluster sembra di essere entrato veramente in un non so museo degli orrori in un film horror di notte vabbè mettiamo un po' di stroboscopiche un po' di anni settanta se proprio deve essere un scenario infernale disco inferno lei ci sta tra l'altro e inizia anche a ballicchiare eh che punta in su che punta in giù che punta in su come in alto così in basso no? era quello mi sa pantaloni a zampa d'elefante è vero e Carlotta con un sacco di capelli sì infatti sono venute quelle palli sai da discoteca classica anni settanta beh non so se sei presente poi Carlotta fa diciamo i pugnetti che arrotolano la lana immaginaria quell'altro movimento anni settanta che cosa l'abbiamo cambiato noi questo una licenza poetica che cosa fa qua cosa trova adesso sta partendo però una cosa non so di forse anni ottanta all the line all the line allora è come se avesse iniziato a gustarsi la possibilità di divertirsi ecco ehm lei nella difficoltà lei nell'aver visto tutti questi drammi ha capito il gioco e dice ok dai eh ora questo è un bel film una bella pellicola la arrotola questa pellicola prima le piace bruciarla e poi queste ceneri le porta nel portale definitivo quindi i contratti li vedi come pellicole sì perché tutto quello che avevamo descritto tutto questo film horror eccetera era impresso su una pellicola ok e al suo posto cosa lascia è come se lei mi desse questa immagine in cui lei è nel letto si sveglia di soprassalto vede la luce il suo letto tipo è rosa e nel momento in cui spalanca gli occhi e vede la luce trova dentro di sé l'energia che gli arriva dal cuore per creare la D'Eternum avevamo visto che sul cuore c'era l'impianto ed è come se fosse svegliata per la prima volta come se avessi dormito un lungo sonno si sveglia e sente una forte energia che la supporta nella creazione della D'Eternum un enorme ventaglio Avatar come se ci fosse una famiglia di Avatar c'è quasi neanche uno singolo una famiglia proprio perché secondo me lei aveva concepito quasi una sorta di maledizione familiare di peso capito che riguardava tutta la famiglia che trascinava tutta la famiglia allora mi appare così in questa forma qua ma sono suoi? sì 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 assolutamente ti tiene? no non mi fanno pena non è che li vedo come componenti di una famiglia no 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 però poverini no non direi che dice poverini anzi è proprio stufa cioè come lei ha detto basta basta non ne posso più fine quindi li toglie? quindi via tutti anche il più piccolino dentro al portale definitivo beh sappia solo che non si torna più indietro si li butta poi non li recupera più quindi deve essere davvero sicura stufa marcia credo molto sei sudata e se ne vuole proprio liberare anche qui fa qualche creazione o no? sì sto cercando di vedere questa cosa cioè perché è come se mi volesse riportare a questa immagine qua quindi lei è sul letto si è svegliata ha appoggiato i piedi per terra ed è come se riassaporasse tutto assaporasse tutto per la prima volta sente il piede che entra in queste ciabatte così soffici è come se queste piccole gioie le dessero tutta quell'energia che sono quasi già queste gioie una ad eternum cioè quello che lei sta provando sono ad eternum ma infatti la gioia di una pantofola morbida è già una ragione valida per essere qui e smorza la scala dell'importanza ma come godi delle tue pantofole comode e hai una figlia anoressica sì certo sì bene Monica mi chiami il responsabile finale esoterico dell'anoressia allora perché me lo da appunto come carta no? mi fa vedere proprio la carta della morte non so questa qui me l'ha data Jodorowsky questa carta qua no? ed è come se per darmi questa carta mi ha fatto intravedere non so uno degli aspetti di Satana quindi Satana e Satana ha messo davanti a Carlotta che succede? a volte tu hai avuto il sospetto che io ci fossi in te nelle tue figlie e lo dice un po' beffardo sfidante Carlotta i contratti li abbiamo tolti nel cluster l'abbiamo già fatto bene che facciamo? cosa fa Carlotta? Carlotta ha tolto i contratti ha tolto l'avatar è la padrona della situazione crea un portale definitivo ci mette quello che non gli va Satana lo teniamo io lo terrei ci piace no? Carlotta è veramente come sfasata in questo momento eh perché è come se fosse un tripudio di cose che la stanno scuotendo forte che non pensava di saper fare l'ha fatta no e no ovviamente no Satana basta ma è sicura? non vorrà mica esagerare chi si crede di essere? la creatrice? tutto? è forse così? sì io lo vedo che Satana è stato messo qui da me all'interno della mia vita e come io l'ho fatto entrare adesso lo faccio uscire come? ha voglia di divertirsi ma allo stesso tempo anche di sfogarsi quindi gli da proprio un bel calcio nel sedere ma proprio con grande soddisfazione ben assestato e questo calcio fa sì che lui precipiti dentro il portale definitivo ok lo chiude ed i valori di Carlotta cambiano come i vecchi tabelloni dell'aeroporto sì al momento vedo vibrazione 155 ok può alzarla se vuole fino a 200 il futuro può alzarla anche di più ora così bene nuova consapevolezza 171 quantità di anima rispetto allo spirito psp 47 la ps ok lo ripeto ogni tanto così questo non è un dato fondamentale l'ideale 50 50 come normale che siano tanto anima tanto spirito tanto parte femminile tanto parte maschile tanta poesia e tanta azione uguale quindi siamo un pochino più equilibrati quante entità quante vite precedenti parallele 1804 capacità mediane che percentuale corrispondente alla percentuale ipotetica di cervello utilizzato 8.8 ok di fronte a queste questi cambiamenti chi fa qualcosa di degno di nota nel cinema il compagno che vedo che si strappa questa collanina di ragno che aveva lo butta via ed è come se avesse voglia adesso posso dirlo sì di far l'amore con lei sì e le figlie la figlia grande vedo che sorride la figlia grande vedo che sorride ha l'aspetto più disteso le vedo meno occhiaie sul volto un po più roseo l'incarnato la figlia piccola la figlia piccola vedo che ha tirato fuori la testa dall'uovo quindi ora io il viso glielo vedo anche se il corpo ancora dentro all'uovo cosa vuole dire la piccola la madre e poi la madre la piccola un tè con te lo bevo volentieri un tè col tè gioco di parole la madre sarà il più buono che tu abbia mai bevuto è come se mi facesse vedere anche che fa dei piccoli 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 dolci come delle palline piccole di dolce che se se la sentirà sua figlia potrà mangiarne una stesso scambio di messaggi con la figlia grande non ti preoccupare sarai un'ottima mamma fare la mamma non è facile ti aiuto ti voglio tanto bene e c'è vedo la figlia tantissimo sollevata come se sentisse che questa cosa di essere madre è una roba di una difficoltà pazzesca no e che non si sente di avere le forze e le competenze necessarie e queste parole della mamma l'hanno rassicurata molto carlotta a se stessa io ho risanato la mia storia la mia nuova storia parte da oggi ed è d'oro e mi fa proprio vedere questa luce che emana da lei e che emana dalle sue giornate non c'è più ombra non c'è più grigiore c'è tanta luce e soprattutto mi fa vedere come spostandosi ci sono vari riverberi della luce che permettano di vedere delle sfumature diverse di colore dei riflessi e il catrame la carriola di catrame è come se le avesse dato l'opportunità di cambiare le mattonelle del pavimento ha rinnovato la cucina al soggiorno dove le aveva scaricato sì ottimo non c'è più niente quindi no no e anche la carriola no no è già stato tutto quanto ristrutturato e sono delle maioliche molto belle adesso bene novità dal cinema il compagno che gli dice dai che ti aspetto ok lei come la vedi finale che ha voglia di tirare fuori la carlotta ironica a volte un po' tagliente ma intelligente e ironica e scoprirà che questa è una chiave risolutiva della sua vita va bene abbiamo finito grazie a tutti grazie a tutti